Amici miei belli nefasti, ben ritrovati in questo nuovo video. Ieri in live sul sito Viola sono arrivato a campione definitivo e quindi ho sbloccato sia la top italiana che la top mondiale. Se non sei a campione definitivo non la puoi vedere. In top italiana siamo top 34 in Italia, ben benino. In top mondiale top 804, siamo in top 1000 ragazzi, quindi scalata ladder ad alti livelli. Oggi voglio giocare ovviamente i mazzi che abbiamo visto bene o male questi giorni su Youtube e sul sito Viola in top 1000 per vedere come si comportano e anche come mi comporto io, come me la cavo io. Iniziamo con questo mazzo che non avete visto su Youtube ma su Twix. Arciarievo, Principino e Pekka. Sto mazzo è fighissimo, cioè il Pekka è proprio un fattore sorpresa. Gli avversari vengono sconvolti quando vedono Pekka perché non ci sono abituati. Pekka è fuori meta da una vita. Non ci pensi al Pekka. Anche se devo dire la verità, ieri ne ho trovati qualcuno di Pekka in top mondiale e quindi la gente ha capito che il Pekka sta giracchiando. Quindi forse sto fattore sorpreso in realtà non ci sta più. Io ragazzi vi dico la verità, le prime partite che ho fatto col Pekka l'ho vinto perché giocavo Pekka e gli avversari iniziavano a sbagliare placement, miscliccare, un casino, facevano un casino ragazzi davvero. Ecco, invece stavolta il Pekka è ritornato abbastanza in merda, in meta volevo dire, non in merda, in meta, in meta. Vedete? Ho trovato un altro Pekka. Ok, è mirror match, incredibile. Abilities now! Sperando che il principosso... Porca vacca, fumante. Adesso che mi invento? Nefasto, adesso hai perso la partita, lo sai? Sì. Lo sai Nefasto che hai perso, sì. Cioè questo Pekka è bruttissimo. Non dà ripartenza come può sembrare. Eh vabbè, fa il soccorso Royale ovviamente, direi non fare nulla. Livello 13 se non altro, il principosso. Ok, mirror match. Vediamo, lui è partito bene. Io sono partito male e ho pure un vantaggio stavolta, quindi dovrei vincerla quasi, occhi chiusi, no? Su questa lui cosa fa? Ah no, lo fa... Forse lui fa bandit, ok. Poteva andare peggio, secondo me, è bella questa hit. Ho un po' di paura di Ariete da battaglia da parte dell'opponent. Questo principino non è bellissimo, lo dobbiamo dire, dobbiamo dire la verità. Però non sapevo davvero cosa inventarmi. Facciamo il soccorso Royale comunque, che dite? Deve fare... Ok, questo lo facciamo però. Ok. Ok, allora qual è il senso di questa play? Che ho gli arcieri Evo. E quindi dovrei riuscire a gestire il Pekka. Giochiamo arcieri Evo. Giochiamo Ghost. Giochiamo subito Ghost. Altro che se giochiamo Ghost, immediatamente. Devo pressarlo, ma non posso giocare Ariete fino a quando ha Pekka in mano, no? Vediamo se fa Pekka, no? Ok. Forse mi rischio un pochino e gioco Nefastino prendendomi il Dash. Su ogni Pekka dal fondo faccio Ariete. Su tutti proprio, eh. Merda, questa non la posso fare. Devo giocare Zap Spell per ciclare qualcosa di nuovo. Pekka. Purtroppo è stato molto bravo lui perché in questo modo mi... Ok, su Nefastino direi di fare comunque Fireball, è poco a dire. Ora deve essere bravo il nostro Nefastino a gestirci quel Pekka. Facciamo Ghost. Oh. Davvero devo fare Pekka? Stiamo scherzando, vero? Ok, ho perso la partita, raga. L'ho capito ora. Non credo ci sia soluzione per me. Faccio una Zap Spell. C'è Nefastino che sta itta la torre, vero? Guardate che scam. Scam a livelli magistrali, ragazzi. Poco da dire. Scams now. Riesco a fangar Ceri Evo, secondo voi? Ce la faccio a fare la Zap Spell? Ce la faccio a fare la Zap Spell? Madonna, ragazzi, che partita tosta. Che partita, pensavo di essere stato scammato, invece alla fine sono stato io quello che ha scammato. Sono una persona terribile, ragazzi. Ho rubato sta partita. Sono davvero un pessimo content creator, lo so. Abbiamo vinto la prima partita di oggi, benvenido. Ragazzi, io vi ricordo di utilizzare il codice creatore nefastone nello shop di Clash Royale. Se vi piacciono questi video e ne volete altri, codice creatore, ragazzi, e ne sfornerò tantissimi. Per ora c'è un supporto incredibile, non so come ringraziarvi, spero di meritarmelo. Grazie, grazie, grazie. Andate pure nello shop codice creatore nefastone. Ragazzi, abbiamo rubato questa partita. Anche voi ruberete tutte queste partite se utilizzate il mio codice creatore. La nefastità verrà passata per osmosi direttamente a casa vostra. Vediamo quanto siamo... È la madonna! Top 29 in Italia! Top 29 in Italia! Mi sono sorpreso anch'io, non sto clickbaitando. Vediamo il top mondiale. Top 700 al mondo. Cazzo! Scusate la volgarità, ma... Cazzo! Nuova partita, ragazzi, sono senza... Allucinante! Allucinante! Top 700 mondiale, eh! Mondiale! Nuova partita. Vediamo un po' cosa succede adesso. Volevo fare due partite con ogni... Cioè, volevo... In questo video l'avevo pensato come... Gioco tre deck, due partite con ogni mazzo. Guardate, non mi fa trovare nessuno perché non c'è nessun counter disponibile. Spero di no. Spero di no. Sono stavo troppo volgare già in questo video, altrimenti per scaramanzia mi toccherai l'uccello. No, vediamo un po'. Oh, mi ha trovato un opponent. Benvenino. Ah, BBB! Benvenino bro. Sarebbe. Questo ci segue, ragazzi. BBB vuol dire Benvenino bro. È l'acronimo. Vediamo se gioca qualcosa. Spero che non sia Hog Rider perché il 2.6 è un counter della madonna. Cioè, mazzi, cycle, domatore, ragazzi. Con sto mazzo li perderei sempre. Potrebbe essere, chi ve pare, il giocatore più forte del mondo. Se l'avversario sa un minimo giocare, domatore, cycle. Non lo vincerete mai. Nefastino. Facciamo una fireball. Porco, demonio. Ok, però va giù nefastino. Ecco la fireball comunque. Mi fa piacere vedere il nefastino perché... Ah no, potrebbe essere comunque 2.6. Cosa sto dicendo? Porca vacca. Abbiamo perso. È persa, ragazzi. Ho difeso qua perché pensavo facesse più danni a destra, ma mi sono pentito. Vediamo la verità. Boh... Questa, davvero, secondo me non vale la pena di essere giocata. Facciamo l'abilità per gli scheletri o per i goblin. Che lui giustamente non gioca perché... Oh, non male qua, eh. No, no, è una merda, altro che. È una merda, è una merda. Vabbè, almeno la guardiana sta recuperando i danni che abbiamo preso noi sotto torre, però... Cioè, questo c'è anche cavaliere in a madonna. Vediamo se sono riuscito a farlo d'asciare. Almeno questo, almeno sto premio di consolazione, ragazzi. Forse però lui non ha un cannone subito, vero? Ha un cannone? Se ha cannone, l'ha quitto. Ok, perfetto. Questo è quittabile. Questo è tranquill... Sì, sì, si può tranquillamente abbandonare, ragazzi. Tranquillamente. Cioè, senza rimpianti, proprio. Peccato, raga. Vabbè, la prima l'abbiamo rubata. Adesso do a restituire il favore. Vediamo un attimo, però. Perché l'opponent potrebbe magari blanderare qualcosa. Eh, ne dubito. Va bene. Gli arciari comunque mi servono Ivo, a prescindere, no? B, B, B. Benvenino, bro. Mmm. Tavolo, benvenino, bro. Ci sta asfaltando. Non so se giocare pecca. Eh, perché lui vuole... Ok, allora. Giochiamo nefastino, ma teniamo subito pronto... Anche lui fa nefastino. Fire. Oh, Cristo di Dio. Bravo. Bel timing. Eh, devo fare pecca, ovviamente. Ok. No, potevo fare l'Abilities Now, credo, qua, no? Aspetta, giochiamo un Outlegge. Outlegge può essere molto interessante in questo spot. Una merda l'Outlegge. È morto, non ci credo. Ho bestemmato per me nella mia vita. Gli arcieri Evo, ovviamente, non riescono a vedere il cannone, ma questo è abbastanza, obviously. Questa non serviva, probabilmente. No, pecca, non mi scammà anche te, dai, cazzo. Ma che so... Mi sento... Quando succede così, io mi sento letteralmente fantozzi, eh. Non sto... Purtroppo non sto a clickbait on, eh. Cazzo, rola. Oh, bello! Bello, bello! Vai! Abilities Now! Vai! No, l'ariete che non è itta. Che scam di nuovo. Vai, vai, nefastino. Qualcuno... No! No, cazzo, c'è il suo nefastino! C'è il suo nefastino! Eh, GG. Comunque aveva difeso, ragazzi, eh. Aveva difeso tutto. Incredibile. Ci sta, ragazzi. Un bruttissimo counter. Si va alla prossima. Siamo una vittoria, una sconfitta. Siamo ritornati al punto di partenza. Top 800 al mondo. Siamo comunque in top mondiale. Bene. Bene, bene, bene. Ragazzi, che Dio ci amandi buono e senza mutande. Io direi che conviene cambiare mazzo, forse. Perché i domatori, comunque, sono molto in meta. Allora, questo non mi convince troppo. Con questo ci ho sempre perso in live. Oh, questo è interessante. È un gigante cimitero, ragazzi. Questo sì. Questo può essere molto interessante per il video, sapete? Mi è entrato qualcosa nell'occhio. Due partite anche con questo mazzo. Ah, ovviamente, ragazzi, qua siamo in top mondiale. Cioè, i giocatori sono tutti medagliettati, eh. Stiamo a parlare di tutta gente che conclude in top non so quanto nelle stagioni, eh. Quindi le partite sono più difficili. Arcieri. Ok. Gigante cimitero. La veleno è presente in meta. Dobbiamo essere disonesti stavolta. Però è anche vero che la strega madre non c'è. Che cos'è? Scintilla, lui. Aspetta, facciamo... Oh, Cristo Dios. Rimane in vita, Nefastino. Ditemi di sì, vi prego. Perfetto. Non avevo dubbi. Ah, cazzo! Kaiser, barbari scelti, insomnia. Non è la cosa che siamo proprio contenti di vedere. Ho fatto dei danni, ma... Barbari, insomnia. Potrà giocare barb... No, sul cimitero forse non sono neanche troppo buoni. Vi dico la verità. Vediamo, si gioca. Si gioca, si gioca. Qua giochiamo Goblin, anche se avrei preferito giocare arcieri. Perché mi servono Ivo, ovviamente. Cioè, è una priorità avere arcieri Evo. Ok. Oh, wow. Forse mi sto preoccupando troppo poco, sapete? Dovrei preoccuparmi un po'... No! Come ha fatto l'arcieri ad esplodere, scusatemi? Vabbè. Ora, lui in questo momento ha i barbari scelti. Quindi è vietato fare il gigante cimitero adesso. Cazzo, non ho nulla per lui. C'ho Nefastino in mano. Eh, dovrò fare l'abilità di Nefastino, raga. È l'unica. So che è molto triste la cosa, ma... Vabbè, abilità... Noi facciamo l'abilità di Nefastino, invece. Se no, muore tutto. Ed è un disastro. E ora voi direte, Nefasto, come farai a togliere tutta quella roba? È molto facile. Non la posso togliere, quindi non la toglierò. Cazzo, quanti collector c'ha sto ragazzo. Ne ha ciclato in U-Bot. So che sto a prendere danni magistrali, ragazzi. So anch'io. Però non vedo alternative qua. Quindi mi prendo danni magistrali, purtroppo. Arcieri... Dimmi che non ho attivato la torre centrale col cimitero. Qua abbiamo Nefastino, se non altro. E poi forse... E dico forse, perché non ne sono ovviamente sicuro. Potrò fare un gigante cimitero decente. Allora, giochiamo Arcieri Ivo prima. E poi facciamo un gigante cimitero di là. Ok, ottimo che ci ha giocato Monaco. Su... Non mi ricordo... Ah no, Arcieri, scusatemi. Cavolo, c'ha pure questi però. La facciamo così. La vorrei fare comunque questa play. Riusciamo a danneggiare meglio Elixir Collector. Riusciamo a fare dei danni più gravi. Poco da dire. Qua però devo fare questa. E pregare Dio, vero? La risposta è sì, Nefasto. Devi pregare. E hai pregato troppo poco stavolta, purtroppo per te, ok? Non so dove vuole fare... Oh, 3M. Va bene, cioè ci dobbiamo provare qua, immagino. Sbaglio, guys. Facciamo anche questa, ok? Non pensavo giocasse di là, vi dico la verità, eh? Qua devo giocarne Fastino. Porca mignotta. Dimmi che mi arriva l'abilità perché comunque ho perso la partita. Quindi in realtà... Sì, sì, è strapersa. Qua non c'è soluzione, ragazzi, purtroppo. Eh sì, c'è troppa roba qua per l'avversario. Troppa, troppa, troppa. Ho fatto bene a provare gigante cimitero, ragazzi, secondo me, però. Quando ho visto 3M, perché non avrei difeso, no? Anche il monaco, quindi io non posso giocare arcieri e principino. Peccato, ragazzi. Sta andando un po' così così in top 1000. Ne ho vinta una, ne ho perse due, ragazzi. Va bene. Diamo un'altra possibilità a questo masso. Attualmente sono top 928 al mondo. Avete capito bene. Top 928. Comunque un risultato carino. Comunque carino ancora. Ragazzi, stiamo andando ancora bene fino a quando siamo top 1000. Io non mi lamento, eh. Poco da dire. Andiamo alla prossima. Vediamo, vediamo chi troviamo. Posso fare bene comunque. Attenzione. Poi abbiamo anche l'ultimo deck, che è uno di quelli che so giocare meglio, eh. Mentre questi sono mazzi un po' così improvvisati che prendo alla top e non ho esperienza, con l'altro un po' esperienza ce l'ho. Sperando in un beccarrazzo. O reclute. Oh, ma quando mi trovano, Oppurent, sto gioco? Dai, voglio giocare! Ma è mai possibile? Cioè, dura più la ricerca che la partita, a momenti. Perché tanto se counter abbandono, no? Cioè, zappa la torre centrale. Vaffaguro, nel senso, no? Oh, non c'è nessuno che gioca a strega madre? Aspettai un attimo. È questa antiscript, eh? No, no, no. Se non c'è nessuno che gioca a strega madre, santo Dio, aspettiamo un attimo. Cioè, io voglio vedere adesso quanto cazzo ci tocca aspettare, eh? Perché poi faccio sempre la parte dell'antipatico, sempre la parte di quello che si ingazza. Eh, però dai, santo Dio, stiamo qua per vedere le partite. Guarda, 24 secondi per trovare una partita. Cioè, cosa faccio in 24 secondi io adesso? 19. Che capodanno! Incredibile, oh! Sembra tipo, che ne so, quando stai con la tua tipa, dovete fare cose, e lei dice, posso andare un attimo in bagno? E voi la aspettate che ritorni? Ecco, io in questo momento ho più o meno, ecco, quella fretta, quella impazienza. Non sto clickbaitando. Cioè, non c'è nessuno che vuole giocare con me. Ah, beh, ok. Abbiamo trovato una strega madre, eh? Miguel. Questo lo conosco, ci ho già giocato molte volte. E ci ho sempre perso. No, non è vero, ci ho sempre vinto, mi sembra, contro di lui. Un saluto a Miguel! In realtà non ho idea di chi sia. Ok, facciamo il principino. Questa è la seconda partita con questo mazzo. Ragazzi, dobbiamo togliere l'elixir collector, vero? Dobbiamo o non dobbiamo togliere l'elixir collector? Hai capito che Dragon Bug ha incatirato? Sì, ma sono danni incredibili per lui. Gli togliamo anche... Cioè, abilities now la dovevo fare prima. No! Tirata perfetta, non ci credo. Bellissima la guardiana. Qua la guardiana fa un lavoro della madonna. Io direi di giocare gli arcieri. Allora, dobbiamo fare ovviamente i goblins. Anche per un attimo gestire quel drago bello forte che c'ha lui. Ok, ok, ragazzi, dai, poteva andare molto peggio, eh. Questo spot poteva andare molto peggio. C'è un problema però, non c'ho niente. Se dovesse fare collector adesso io che faccio sul collector? Perché non c'ho più gigante cimitero. Facciamo così. Eeeh, cazzo però. Cioè, qua inizia, ecco, inizia ad avere paura in maniera seria. Drago. Ah, sì, per resettarlo. Ok, facciamo nefastino. Mi sembra che abbia tornato e non abbia altre spell questo deck. Quindi in realtà può anche andar bene, poco a dire. E qua faccio una play che lui non si aspetta. Ok, forse se l'aspettava in realtà, devo essere disonesto. Importantissimo, secondo me, tirasta snowball, ragazzi. Snowball de merda. Una delle peggiori che abbia mai tirato nella mia vita. Ho perso la partita qua, ragazzi. La torre è sicuramente persa. Non so cosa abbia predictato, ma io non c'avevo nulla, quindi. In realtà la play non è stata troppo devastante. Allora, qual è il discord? Che, ok. Io devo provarci, raga, a fare la torre adesso. Perché la difesa sarà ai limiti dell'impossibile. Ve lo dico proprio in tutta disonestity. Bellissimo il dark. Bellissimo il dark. Abilities now. Che cos'è nefastino? Proviamo così, ragazzi, ma devo essere disonesto. No, no, no. Mi dovevate targettare il golem del demonio. Mamma mia, gli arciarievo, ragazzi. Quanto sono forti. Madonna, gli arciarievo, guys. Madonna, gli arciarievo. Madonna, gli arciarievo. Io direi di provarci, ragazzi, per disperazione. No, che tornado della madonna. Calmi, ho fatto bei dannini, però, eh. Bei dannini. No, non bastano, però, ragazzi, eh. Devo giocare in altro cimitero, subito. Il prima possibile, ragazzi. Dai, arciarie di merda. Perfetto, ragazzi, perfetto. Una vittoria e una sconfitta con entrambi i deck. Ragazzi, notate la differenza, secondo me. Notate la differenza rispetto a quando ero nelle leghe, ragazzi. Il livello si è comunque alzato. È vero. Siamo in inizio stagione. Pochi sono arrivati a campione definitivo. Lo devo dire. Siamo in pochi, ragazzi. Molti ancora non hanno iniziato a scalare. Però, ragazzi, si sente tantissimo la tensione. Si sente tantissimo la differenza rispetto a quando ero nelle leghe. Il video anche di due giorni fa, per esempio, ragazzi. Mamma mia, le partite erano molto più facili. Qua mi devo concentrare tanto di più. Sono molto, molto di più con l'ansia. Non so se si è notato. Cazzo. Comunque abbiamo vinto. Vediamo quanto stiamo adesso in top italiana. Dovrei aver recuperato la top 30, in teoria. Sto cazzo, so top 35. Va bene, comunque, ragazzi. Top 35 in Italia. Top mondiale dovrei essere top 800. 837. Va bene, va. Allora, giochiamo adesso un mazzo che a me piace molto. Piace davvero tanto, ragazzi, che è il gigante Copa in scintilla. Eccolo qua, ragazzi. Rivisitato col principino, non c'è l'Arcerevo. Per il semplice motivo che, secondo me, in questo mazzo è molto più forte lui. Cioè, è il mazzo che ho giocato questa stagione, con cui ho fatto il mio record stagionale 2650 medaglie con il principino al posto di strega madre. Quindi, niente di che, niente idee geniali. Abbiamo trovato subito un opponent ben benino. Come potete vedere, ragazzi, sono tutti giocatori medagliettati. Tutti top 1000. Quindi, gente sulla carta più forte di me. Vediamo un attimo. Ok, Pipi Strellini. Direi che è un ottimo spot per fare un principino qua. Direi che è molto, molto logico. Ah, cazzo, potrebbe essere Golem. O Golem, tipo. Qua non ha senso, secondo me, ragazzi, fare l'abilità di nefastino, eh. Non ha davvero senso abilitare qua. Spreco tre delizie. Ah, gigante cimitero! Cazzo, non l'avevo capito, ragazzi. Gigante cimitero, credo, lui, eh. Ok. Però non è male qua lo spot, o sbaglio? Allora, dovrebbe avere skeletonarmi, ma noi puntiamo a tankare... Ok, sì. Skeletonarmi, come vi stavo dicendo poc'anzi. Faccio una giocata strana, perché qua ora voi mi potete dire, ma perché non hai fatto la furia nefasto? Perché io ho bisogno del Cavaliere Evo, in ogni caso. E quindi mi piace spendere uno in più dell'Isir, perché ciclo il Cavaliere Evo e mi tengo la furia, che in questo matchup è fortissima. La posso giocare su scheletrini, su pipistrelli e delle volte anche su cimitero. Lui qua vuole ciclare qualcosa di diverso. Ok, è legittimo, eh. Molto più che legittimo. Mi voglio tenere la furia, ragazzi. La furia è una spell importante in questo matchup, secondo me. Non sto clicvitando, sapete? Qua ho paura, qui però smorco in realtà, perché ho paura che lui possa giocarmi gigante cimitero da qualche altro lato. Facciamo l'abilità proprio per non sprecare 10.000 di Elisir, magari. Qui ho perso la partita, probabilmente se Nefastino non si sbriga. Quindi facciamo così. Nefastino te devi sbrigare, devi attaccare la torre, cazzo. Nefastino. No, 10 anni, santo Dio. Poi uno non deve bestemmiare? Ecco, per il tipo adesso non posso fare gigante goblin perché non ho la furia. Vabbè, però dai, ci ha giocato i pipistrelli evo così, siamo abbastanza contenti, eh. Cioè nel momento in cui lui gioca l'evoluzione così, secondo me qualcosa gli è andato storto all'opponente, per dire la verità. Mi serve Nefastino in difesa cimitero. Ok, facciamo mini pecca. E giochiamo Nefastino e furia subito sul Nefastino, però. No! L'ho tirata su tutti, tranne proprio che sul Nefastino, mi sa. Avete visto, guys? Qua devo tankare forse meglio tutti quei pipistrelli fortissimi. Ok. Ok. Gigante goblin non... Non farei nulla. L'abilità di Nefastino. Parossalmente anche giocare Scintilla non mi fa infazzire. So, raga, che non mi sta bene niente, eh. Quindi so, tipo una sogera. Però non mi piace qua, ragazzi. Non mi piace, non mi piace l'abilità di Nefastino. Non mi piace per niente. Adesso attacchiamo invece per fargli perdere tempo. Deve far scheletonarmi. Ah, pensa... Ah, cazzo! Pensavo... Vabbè, è comunque vinta, chi se ne frega. Bella play dell'opponent. Forse farei anche un'altra torre con un po' più dei secondi. Ma veramente poco importa, ragazzi. Poco importa. Questo è un ottimo matchup. Gigante cimitero. So contento. So contento. So contento. Allora, ragazzi. Abbiamo vinto anche questa. Siamo arrivati a 1700 medaglie in questo video. Dobbiamo fare l'ultima partita con sto mazzo. Che, come vi dicevo poc'anzi, è quello con cui mi sento un pochino più confident. Diciamo che durante le stagioni le top quelle belle le faccio sempre con sto mazzo. Allora, vediamo quanto siamo. Vediamo chi era l'opponent. Innanzitutto, sì, mi ricordavo la medaglietta. Hai capito? Con 1635 sei vicino alla top 1000. Incredibile. Incredibile. Allora, vediamo quanto siamo in top italiana adesso. Dovrei essere top 30, perché prima ero top 35. Infatti, sono proprio top 30. Proprio un pelo. Un pelo, pelo, pelo. Molto sottile. Ma ci siamo. Top 30. Io, ragazzi, vi dico sempre le cose come stanno. Io non ho peli sulla lingua. E se li ho, non sono i miei. Andiamo a vedere quanto siamo in top mondiale. Top 729 al mondo. Stiamo iniziando a ragionare. Qua, ragazzi, io sono oggettivamente contento. Top 729. Manca l'ultima partita, ragazzi, con questo deck. Avete capito bene. Andiamo subito, ragazzi. Non perdiamoci in chiacchiere. Forza e coraggio. Comunque, ragazzi, per ora sono a tre vittorie e due sconfitte in top 1000 mondiale. Sono contento. Comunque, alla peggio, ho fatto tre vittorie e tre sconfitte. Perché se dovessi perdi questa, sarebbe la terza sconfitta. Sono contento. Domatore dei cinghiali. C'ho paura di una cosa. Che possa avere la pirotecnica. Non ho le frecce. Solo fa... Porca vacca. Sì, ma qua la situazione è disastrosa. Il mini! Come ha fatto Ita, lo sa solo lui. E infurierei, però. Qua mi sembra... Sembra un po'... Un po' brutto lo spot, no? Abilities now! Madonna, ne fastino quando sei andato veloce. Bella la guardiana, però. Bella la guardiana! Bella la guardiana, Kaiser! Bellissima! 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 Abbiamo fatto dei bei dannimi! Eeeh! Ecco là la pirote... Oh, livello 13, però se non altro la pirotecnica... No, no! Pirotecnica! Devi andare! No, pirotecnica! Capito perché sto gioco ti fa andare fuori di testa? Avete visto che scam incredibile che abbiamo subito? Avete visto? Abbiamo comunque un vantaggio! Per cari al signore, però... Non è quello... C'è la orda di sgherri! Me devo focussare, ragazzi. Gioco questo perché voglio l'evoluzione, ovviamente. Non per altri motivi. Voglio solo l'evoluzione. Andiamo di scintilla. Se ci fa domatore a destra, gli lasciamo la torre. Va benissimo, ragazzi, eh. Benissimo! Valkyria! Benissimo! Devo conservare un po' di lisir per l'orda di sgherri, però, ragazzi. Purtroppo per me, eh. Oh, oh! Aspetta! Allora te infurio! Ma allora te infurio! C'è il gigante goblin! Eh, me capisci, amore de zio? Me capisci? Oh, puttana! Devo essere disonesto. Non mi aspettavo questi barbieri scelti. Questi barbieri non sono scelti, nefasto. Non so se sai la differenza tra le carte. Se in content creator dovresti saperle distinguere. Un minimo, in realtà, eh. In realtà ho il terrore di fare fireball a destra. Perché poi l'orda di sgherri diventa effettivamente molto forte. Cazzo! Vai, nefastino! Aiutaci tu! Bravo, nefastino! Eh. Bella question qua. Che cazzo mi invento? Bella question. Non voglio mai, ragazzi, fare la fireball. Avete capito bene? Ce devo fare una torre. Ve lo... No! Che è successo? No! No! Ho sbagliato. Ho fatto questa totalmente a caso. Ho fatto questo, raga, totalmente random. Va a finire pure buona. Però, insomma... Cioè, potrebbe essere buona perché adesso... Oddio, però lui vuole fa mongolfiera. Nefasto, eh. Sappilo. Lo sai, sì. Eh, ma fa mongolfiera qua, ragazzi. Cosa non mi fa mongo? Va benissimo, guys. Nefastino, aiutaci tu, eh. E de là ho perso la torre, però. C'è solo sto problema. Che ho preso tre corone. Altrimenti la play sarebbe stata pur... No, non ho preso tre corone invece, calmi. Teniamo la fireball cascasse il mondo. Che qua lui giocherà un botte roba. Non mi piace pushare con gigante goblin. Se non ho la fireball per predictare. Ok, ora dovrei avere l'elisir, eh. Qua sempre fireball predict, ragazzi. Cascasse il mondo fireball predict. Bene, ragazzi. Benvenino. Benvenino, ragazzi. Sì, ho un po' di confidenza con questo mazzo. Ce l'ho, ce l'ho. Ragazzi, quattro vittorie e due sconfitte. Sono contentissimo questo videotesting di deck principino in top 1000 mondiali ha dato bene. Lasciate un mi piace, ragazzi. Per cortesia. E utilizzate il mio codice creatore NEFASTONE. Nello shop, ve lo dico un'altra volta. Così ruberete anche voi le partite come le rubo io, ragazzi. Inoltre, le tipe vi scriveranno su Instagram. Perché sappiamo che le tipe, al giorno d'oggi, a fine 2023, sono attratte dai ragazzi che utilizzano il codice creatore NEFASTONE. Capito? Cioè, voi non sapete come provarci con una ragazza? Basta che dite, io utilizzo il codice creatore NEFASTONE. E questa vi è salta addosso, ragazzi. E dopo bombate. Allora, comunque, l'opponent chi era? Non era troppo forte. Perfetto. Ho detto che ce so solo top 1000. In realtà ce so solo nabbi come me. Vediamo quanto siamo in top italiana. Avete capito bene? Siamo top 24 in Italia. Non male per niente. Sono contento, ragazzi. Ci siamo. Ci siamo. Top mondiale. Top 700, secondo me. Vediamo. Top 600 al mondo, ragazzi. Non male, non male. Questo video testing è andato bene. Vi rifaccio vedere i deck del video. Allora, siamo partiti con il mazzo PECCA. che vince ma non convince appieno perché possiamo trovare tanti domatori, tanti mazzi cycle che ci batteranno sempre. C'è poco da dire. Poi abbiamo proseguito con... Do cazzo è andato il deck? Con questo gigante cimitero. Una rivisitazione moderna del mazzo di El Patron, il giocatore più forte al mondo con cimitero. Carino, carino. Divertente da giocare, con nefastino arciaria. Interessante da provare. Ci sono le veleno in meta però. Quindi occhio. E poi, vabbè, qua sono voluto andare un po' sul sicuro. Vi dico la verità, ragazzi. Ho scelto sto mazzo per sto video perché pensavo di perdere abbastanza con gli altri mazzi che non conosco. E mi son detto, dai, metto anche questo nel video che probabilmente ci vinco. Lo conosco. E va bene così. Ragazzi, grazie di cuore a tutti. Ah, una cosa. Nel prossimo video vi vorrei portare questo mazzo qua. Egolem, versione classica italiana. Perché la versione classica, classica, vera delle golem aveva la strega notturna, eh, ricordiamoci. Questa invece è la versione classica italiana al mazzo di ciccio con una bella variabile. La fireball al posto della zap, ovviamente, perché girano comunque i barbari e tutto. Abbiamo i barbari evo e non i barbari scelti. E abbiamo anche nefastino, ragazzi. Lasciate un mi piace e scrivetemi nei commenti se volete vedere sto mazzo che secondo me è molto interessante. Grazie ancora a tutti, ragazzi. Buona giornata. Ci vediamo stasera sul sito Viola, codice creatore, nefastone. Grazie mille.